La discesa c'è anche se lenta. Sono 1164 le persone attualmente positive al covid sul territorio di Civitavecchia, circa 200 in meno di quelle che si registravano due settimane fa. I guariti sono più dei nuovi contagiati, che viaggiano ad una velocità di circa 50 al giorno. Ma Civitavecchia resta l'unico comune della Asla Roma 4 ad essere sopra quota 1000, con il doppio dei casi che ci sono a Cerveteri, attualmente a quota 637, il quadruplo di Radispoli, fermo a 346, tanti casi anche a Santa Marinella, che si attesta a 369 positivi sul proprio territorio. Anche al San Paolo la situazione migliora, visto che si è passati dai 14 casi di qualche giorno fa agli attuali 6 nel reparto di medicina covid, posto allo stesso piano di quello di medicina pulita, posto nell'altra ala del primo piano del San Paolo, dopo la trasformazione voluta la scorsa settimana dal direttore sanitario del polo ospedaliero Civitavecchia Bracciano, Antonio Carbone, al fine di permettere il completo ritorno alla normalità di chirurgia, che potrà tornare ad eseguire tutte le operazioni necessarie, anche quelle cosiddette di chirurgia elettiva, cioè il cui spostamento nel tempo non ha causato conseguenze per i pazienti. Purtroppo non si riesce a chiudere questo reparto, afferma Carbone, anche se ci sono dei miglioramenti negli ultimi giorni. Al pronto soccorso continuano infatti ad arrivare pazienti positivi che necessitano di assistenza. In Piastra, per esempio, attualmente ci sono altri 5 contagiati, in attesa del ricovero o delle dimissioni. Non appena sarà possibile l'ospedale tornerà alla normalità. Non abbiamo fatto mancare nulla finora a livello di prestazioni, ma ci è costato grande fatica.